Ciao, sono Simona dell'Accademia Turcoliana Paduano e oggi si è realizzato uno dei miei più grandi sogni. Essendo comunque la mia prima esterna, sono molto contenta che l'Accademia mi abbia dato questa possibilità di partecipare alla Parigi Fashion Week, che è uno dei più importanti eventi di moda al mondo. Sono contenta di aver scelto questa scuola perché ci ha fornito una formazione che ci permette di affrontare questi eventi alla grande. Ringrazio l'Accademia per tutte queste esperienze che mi ha permesso di fare, sono davvero contenta del risultato ottenuto oggi perché questo mi ha fatto capire come sono veramente cresciuta come meetup artist. Consiglio l'Accademia per chi ti permette di crescere professionalmente, ti permette di toccare con mano il mondo del lavoro. Per me essere a Parigi è una grandissima emozione anche perché è la prima volta che sono all'estero ed è bello essere qui anche facendo un viaggio ma anche facendo quello che io amo di più grazie all'Accademia Liliana Paduano. Questo è il quarto evento che faccio insieme all'Accademia Liliana Paduano, però questo è stato quello più importante e più bello che abbia mai fatto. Sono soddisfatta di come ho affrontato la situazione perché la mia Accademia mi forma alla perfezione per poi affrontare tutto questo. È il meglio per chi vuole diventare un make-up artist professionista.